Benvenuti, siamo con i professori Dario Ianes, Sofia Cramerotti, Flavio Fogarolo e Benedetta Zagni. Benvenuti. Grazie. Allora, siamo un bel gruppo nutrito perché voi siete gli autori di un libro appena uscito dalla Ericsson che in realtà è un manuale per gli insegnanti per costruire un PEI e una cassa inclusiva. La prima domanda è cosa vi ha spinto a realizzare questo volume, visto che Ericsson ha già prodotto tanto materiale e anche bello corposo sul discorso del PEI. Vado io? Beh, è proprio per questo che l'abbiamo fatto, nel senso che ormai i materiali sul PEI seguono due grandi linee. ormai in Ericsson, una è quella dei manuali di tipo metodologico, il primo, quello grande, poi via via, le varie domande e risposte che ha fatto Flavio, insomma, poi c'è un filone diciamo più di irrobustimento metodologico del docente. Dall'altro lato tutta la parte pratica, per cui come osservare, come le schede, tutti i materiali, i raccoglitori adesso, per cui c'era quest'altro filone, che continuano ovviamente, perché i raccoglitori continuano a uscire con le schede di ricarica, insomma tutto questo filone va. Però proprio per questo volevamo fare un qualcosa di molto agile, molto adatto, diciamo, a un... non solo al sostegno, ma anche appunto ai curricolari, che devono ovviamente insieme costruire non solo il PEI, diciamo, ma anche proprio la classe inclusiva. Questo era il punto di svolta che abbiamo voluto toccare con questo libro a più umani, cioè mettere insieme il PEI che diventa inclusivo e fa diventare inclusiva la classe. Ecco, questo è stato il tentativo. Vediamo finora che il pubblico l'ha accolto molto bene, perché è fresco, con le immagini, con le cose molto concrete e molto pratiche. Abbiamo visto, almeno dai primi incontri che stiamo facendo, che è molto utilizzato dal sostegno come ponte verso i curricolari. come dire, guarda che io sono qui per la classe, sono qui per te, anche insieme possiamo costruire una classe inclusiva. C'è un buon, diciamo, un buon ponticello, no? Per costruire quella collaborazione che è alla base dell'inclusione. Ecco, diciamo che non è semplice realizzare volume a quattro mani, comunque ci sono tanti aspetti. In particolare vorrei chiedere, ognuno di voi in particolare, qual è stato il contributo alla realizzazione del volume? Questo lo sa Sofia, eh? Vado io. Allora, sì, può essere complesso, soprattutto se non si va d'accordo, ma non è il nostro caso, ma può essere anche un punto di forza, nel senso che è un gruppo che è un gruppo complementare. Cioè abbiamo delle, diciamo, una comune base di visione del pay, dell'inclusione, del sostegno della classe e questo ovviamente ci aiuta ad andare nella medesima direzione. Però poi, ecco, con competenze diverse e quindi che si vanno a intrecciare e riescono a dare completezza un po' alla proposta. Beh, in particolare Flavio è la nostra figura di riferimento per quanto riguarda tutto l'ambito anche normativo, organizzativo e proprio grazie anche al suo lavoro col gruppo Normativa e Inclusione. E qui, proprio nella parte finale del volume, abbiamo voluto dare spazio a Flavio, dove ha selezionato, e penso sia stata una selezione difficile perché i temi controversi e quelli che di solito creano dibattito e confronto all'interno delle scuole sono davvero molti, una selezione di temi controversi, di domande che spesso escono un po' dai vari confronti su alcuni temi caldi che riguardano il PEI, l'inclusione e anche proprio da un punto di vista ecco, Dario fa vedere la copertina, la divisoria diciamo della sezione in cui poi Flavio, che poi magari ce ne parlerà, ha individuato queste domande e risposte. Il resto invece è un insieme di 15 punti che ci siamo un po' suddivisi ma semplicemente anche un po' per suddividerci il lavoro però ecco, Dario ovviamente ci ha dato la parte più di visione complessiva e un po' le direzioni da prendere in questo volume. Io mi sono occupata più della parte magari di osservazione di profilo di funzionamento e Benedetta invece, data la sua formazione anche rispetto a tutto quello che è l'approccio cooperativo il gruppo, la risorsa compagni, la risorsa classe si è occupata anche di questa parte di far vedere poi come concretamente un PEI può intrecciarsi con quello che è il lavoro di classe. Ecco, questo aspetto in particolare mi interessa perché spesso il PEI è visto sia dai docenti curricolari un po' come un qualcosa di burocratico da dover fare lasciato tante volte al sostegno a realizzare questa cosa quando invece andrebbe costruito insieme visto che sul bambino, sul ragazzo, sull'alunno lavorano tutti, sia i curricolari che il sostegno cosa significa costruire un punto di contratto tra il PEI e la classe? Magari qui vado io questa è un po' la cosa su cui ci scontriamo di più Flavio direbbe bisogna guardare la realtà e la realtà è quella in cui, come dici tu Fabio è il sostegno che la maggior parte delle volte compila questo PEI in ottica molto burocratica se vogliamo, no? L'aggancio con la classe secondo noi avviene tramite l'intreccio l'abbiamo un po' chiamato così nella nostra prospettiva cioè come rendiamo il PEI uno strumento che diventi un aggancio inclusivo anche per i compagni e le compagne cercando di intrecciare le quattro dimensioni su cui noi lavoriamo all'interno del PEI con la progettazione curricolare e viceversa quindi quello che noi proponiamo all'interno del volume è cercare di incastrare un po' queste due cose in un unico lavoro e mi spiego meglio e quando noi all'interno della classe dobbiamo scegliere di fare un'attività pensiamo di fare, non lo so, il ciclo delle piante e ci mettiamo un obiettivo, no? Un obiettivo che deve essere per tutta la classe non è solo per l'alunno o l'alunna con disabilità e l'obiettivo nel caso dell'alunno o l'alunna con disabilità viene poi personalizzato, no? Chiaramente quando noi poi prendiamo una scelta metodologica diciamo, ok, com'è meglio fare questo ciclo delle piante, no? Lo facciamo, non lo so, con un lapbook perché il ciclo si presta bene a essere fatto con questa metodologia e lo facciamo in piccoli gruppi perché? Perché sappiamo dalla letteratura che il piccolo gruppo favorisce l'apprendimento l'inclusione, l'interazione sociale, eccetera In questa modalità quando io scelgo una metodologia in modo consapevole e scelgo un obiettivo in modo consapevole quindi dove voglio arrivare sto intrecciando quelle che sono le quattro dimensioni del PEI quindi la dimensione della relazione per esempio nel cooperativo la coordinazione oculomanuale le competenze più finomotorie perché faccio il lapbook con quello che è un obiettivo del curriculum cioè il fatto che io poi in scienze dovrò sapere qual è il ciclo della vita allora questo è l'intreccio quando noi diciamo l'insegnante di sostegno e il curriculare dovrebbero andare in tandem come se fosse una bicicletta fatta di due persone e per andare avanti c'è bisogno di tutti e due e allora il sostegno può diventare un po' una risorsa che attiva questo processo e che dice guarda rispetto a questo alunno o questa alunna che io conosco bene perché come dice Sofia l'ho osservato in ottica biopsicosociale so come funziona lui e nel contesto è meglio fare questo tipo di approccio qui per sviluppare queste sue competenze e il curriculare dice benissimo in scienze questa cosa può essere fatta con questa metodologia perché si presta particolarmente bene questo è il dialogo che noi ci aspettiamo per creare questo punto di contatto Fabio che tu dici con la classe ecco credo che questa domanda sia per Flavio perché volevo chiedere visto che da quello che ho capito da quello che dice la Sofia hai raccolto un po' tutte le criticità ecco volevo chiedere proprio queste quali sono le maggiori criticità che hai incontrato e che stai cercando diciamo anche di dare dei suggerimenti per superare le criticità sono tante le criticità in particolare chiaramente questo nuovo modello di PEI ha posto un modo di lavorare assieme che non c'era prima questo dobbiamo tenere presente cioè se andiamo 4-5 anni fa il PEI veniva fatto in modo completamente diverso adesso ci lamentiamo perché è fatto prevalentemente dall'insegnante di sostegno allora era fatto solo dall'insegnante di sostegno quando era fatto è di nascosto i genitori non erano coinvolti altro che tre incontri l'anno era tanto ma neanche neppure uno molto spesso la situazione diciamo anche che è molto cambiata e gli effetti anche si vedono poi si vedono anche le criticità normalmente ovviamente perché una volta che si sa che si dovrebbe fare in un certo modo nelle scuole dove si fa diversamente chiaramente uno si chiede come mai perché e qui i loro problemi sono quelli che abbiamo dice ne sono una ventina nel libro insomma sono i più ricorrenti e il ruolo e come si convocano e cosa succede se non riusciamo ad arrivare alla decisione perché il pay va approvato dal GLO non va solo letto ma a volte non viene pure letto cosa vuol dire approvare un po' che un pay che ruolo hanno i genitori tutte le varie persone come coinvolgere i curricolari seriamente però non facendo finta perché con una firma tutti questi problemi che chiaramente non hanno una soluzione semplice se no siamo qui a raccontare balle sono problemi complessi chiaramente che però vanno risolti e si vede che effettivamente in molte realtà i risultati si vedono si vede proprio che sta cambiando qualcosa e questo è l'aspetto positivo su cui certamente bisogna insistere bisogna lavorare perché questa che sta in questi anni è forse l'innovazione più grande che c'è stata nella nostra inclusione scolastica dai tempi della 104 di 30 anni fa insomma e c'è da dire che veramente sta cambiando le cose ecco su questo bisogna essere dopo ciò tante altre difficoltà ricordiamoci che abbiamo un terzo di insegnanti non specializzati abbiamo un precariato diffusissimo quindi abbiamo tantissimi problemi ecco però almeno questa parte io credo che sta lavorando bene e ci sono effettivamente delle cose che funzionano ecco Flavio ci ha raccontato un po' che il pay oggi è un'evoluzione quindi ha una sua storia un suo passaggio allora forse credo di rivolgermi a Sofia con questa domanda perché io quello che volevo chiedere visto che il pay oggi ha un'evoluzione in chiave ICF e come si parte proprio la costruzione del pay con questa nuova metodologia di oggi innanzitutto è importante tranquillizzare gli insegnanti perché più che una una tecnica una metodologia nuova è un approccio una visione a un modello biopsicosociale cioè di non considerare la persona solo nell'aspetto della sua menomazione o non funzionamento a livello bio quindi di corpo di strutture corporee ma guardare anche quella che è la sua partecipazione la partecipazione sociale i contesti nei quali si trova e nei quali può trovare facilitatori speriamo oppure però anche barriere ostacoli per cui ecco innanzitutto rassicuriamo che non è conoscere l'ICF conoscere tutti i suoi codici ma è fare proprio alla visione ecco questo sarebbe già un grande primo passo fondamentale proprio affinché l'insegnante apra un po' lo sguardo e consideri la luna 360 gradi in tutti i suoi ambiti di funzionamento e in cui si possono ovviamente collocare i diversi bisogni questo è importante anche per andare a completare con la propria osservazione nel contesto scolastico che è fondamentale quello che è il profilo di funzionamento che ci deriva magari dalla parte più sanitaria diciamo del PEI ecco noi suggeriamo sempre è vero che il profilo di funzionamento è in capo all'unità di valutazione però l'osservazione e il completamento che io posso fare osservando con gli strumenti ovviamente propri della scuola dei docenti ma che ormai sono assolutamente a disposizione un po' ovunque ecco riesco a completare questa visione perché altrimenti ricadiamo nel rimanere nel bio e non considerare poi come questo alunno e questa alunna interagisce con i compagni con le figure di riferimento o raccogliere anche quella che è la voce delle famiglie di com'è nel suo contesto scolastico e ultimo lo metterei al primo posto importantissimo tutte le volte in cui è possibile devo dire sono poche quelle in cui non è possibile in nessun modo ascoltare anche quella che è la voce dell'alunno e dell'alunna proprio per rendere concreto quello che è il principio di autodeterminazione autorappresentazione e anche rendere effettivamente mettere al centro del pay del proprio pay quello che è il protagonista vero che è l'alunno e l'alunna ok grazie Sofia faccio un giro passo a Dario Ianes perché con il professor Ianes abbiamo toccato tante volte l'aspetto legato al sostegno le criticità come diceva Flavio prima la mancanza di specializzati quindi è un altro problema come costruire un pay quando mancano proprio le basi su chi poi possa farlo noi con il professor Ianes abbiamo parlato molto anche nelle precedenti interviste sulla sulla crisi del sostegno come è visto oggi sulle prospettive future e allora le chiedo può essere questo pay in chiave inclusiva un punto su cui partire e costruire quello che ci siamo detti una nuova forma di sostegno ma un sostegno diffuso un sostegno diffuso non più concentrato allora l'altro giorno racconto questo perché mi sembra carino l'altro giorno una dirigente scolastica ha visto questo libro che abbiamo appena fatto dice questo lo regalo a tutti i miei docenti allora io ho detto di sostegno dice no no ai curricolari perché i curricolari dice a me basterebbe solamente dice che di ogni capitolo leggessero la parte che si intitola cosa non fare cosa non fare no perché c'è la parte cosa fare ovviamente cosa non fare e dice ma dico ma sei sicura hai curricolari ma certo perché il sostegno diciamo l'inclusione viene da lì viene da lì perché tu pensa sei nella secondaria metti il primo secondo grado c'hai un sistema di docenti ampio che vengono corresponsabilizzati giustamente in questo nuovo modello di pay devono assumersi una responsabilità della loro programmazione e progettazione costruendola in chiave inclusiva proprio perché hanno nella classe uno o più ragazzi o ragazze con disabilità o altre situazioni particolari per cui a me era piaciuto questa cosa di questa dirigente che dice io voglio far crescere tutti i docenti non solo i docenti di sostegno perché paradossalmente se tu anche avessi dei docenti di sostegno formatissimi tantissimi competentissimi non è non è questa la strada per un sistema scolastico globalmente inclusivo per cui l'idea del sostegno diffuso della codocenza del fare insieme del progettare dell'intreccio eccetera noi crediamo che sia la strada più corretta per un discorso inclusivo ecco il discorso inclusivo quindi il pay visto non più fondamentalmente come focalizzato sul ragazzo ma come avete scritto voi sulla classe inclusiva e che a questo punto rivolgemi a Benedetta chiedendo appunto questa apertura della divisione del pay non focalizzato sul bambino ma sulla classe ma come si costruisce una classe inclusiva bisogna leggere il libro no scherzo e faccio solo una precisazione non dimentichiamoci che però il pay va fatto e va fatto bene cioè che non diventi questo un modo per dire non guardiamo più il pay perché così facciamo la classe inclusiva ecco non è questa la prospettiva la prospettiva è quella che in cui il pay diventa per me uno strumento per rendere la classe più inclusiva perché sono tra virgolette costretto a pensare ad un modo più personalizzato a utilizzare delle metodologie precise a definire bene degli obiettivi quasi diventa un vantaggio mi viene da dire avere un pay la classe inclusiva si fa nel momento in cui valorizziamo tutte le differenze parlavamo ieri a Foggia con una docente ci diceva ma adesso come facciamo qui con l'intercultura se però ci si focalizza sull'intercultura si perde la disabilità cosa succede è proprio questa la classe inclusiva è quando io non guardo l'etichetta prima del bambino ma è quando io guardo il bambino sia che abbia una provenienza etnica diversa sia che abbia una disabilità sia che abbia delle difficoltà temporanee a casa è quando io riesco a vedere e valorizzare le differenze di tutti e di ciascuno e dire perfetto come questa differenza diventa per me un valore all'interno della classe e della progettazione didattica e faccio un'ultima precisazione la classe è inclusiva secondo noi quando tutti e tutte stanno bene prima di tutto prima della progettazione curricolare prima delle quattro dimensioni quando io quando sono in quel contesto non voglio scappare anzi ci voglio stare e sento di voler far parte di quella classe lì sento che i miei compagni mi mancano quando io non sono a scuola e soprattutto sento che la mia insegnante mi vuole mi valorizza e ha un atteggiamento nei miei confronti positivo questa è la classe inclusiva tutto il resto viene dopo la progettazione è una cosa tecnica se vogliamo eccoci avviamo verso la conclusione però una domanda io la volevo fare perché vedendo il libro c'è una parte che mi ha incuriosito verso la parte finale quando voi mettete delle checklist di automonitoraggio ecco non so chi è che mi può rispondere su questo aspetto qui quando è importante l'automonitoraggio quindi per seguire il percorso quindi scritto il pay vedere se questo pay va avanti e eventualmente portare anche delle correzioni Sofia Sofia io sì allora abbiamo voluto mettere queste questa chiamiamola checklist ma mi piacerebbe di più proprio considerarla come degli spunti di autoriflessione autovalutazione e non come una checklist dove devo spuntare ce l'ho non ce l'ho l'ho fatto non l'ho fatto sono degli spunti che possono proprio aiutare i docenti a riflettere su quella che è la situazione della loro scuola la loro situazione rispetto al lavoro coi curricolari rispetto ai processi inclusivi messi in atto non è nulla di giudicante di valutativo in termini in termini stretti ma proprio un aiuto una guida a riflettere su quello che è un percorso su quella che è la fotografia attuale della situazione su quelle che sono le direzioni un po' da prendere l'orizzonte un po' da avere come riferimento e da raggiungere e dei piccoli passi che in mezzo a questi due grandi poli opposti posso fare per andare nella direzione dell'inclusione quindi ecco il nostro suggerimento a tutti i lettori è proprio quella di utilizzarlo in questa in questa prospettiva e poi anche di un monitoraggio augurandoci che pian pianino magari elementi che non erano presenti nella riflessione iniziale poi a poco a poco grazie anche alla messa in atto di metodologie approcci della classe inclusiva possano diciamo essere raggiunti o comunque in parte implementati ecco chiudo con Flavio perché se ho capito bene è lui che è un po' più esperto sulla normativa e allora io voglio chiedere visto diciamo che la normativa spesso crea delle lacune oppure delle incertezze i manuali sono bello voluminosi quindi non tutti poi si mettono a sfogliare i pay quelli belli grossi e corposi può essere questo anche un suggerimento su come superare le criticità della normativa vigente e cosa possono fare i docenti per stare sempre attenti a non uscire fuori dai ranghi come si dice intanto la normativa che abbiamo non è così male molto spesso non viene conosciuta viene interpretata in modo in valondo si fa così perché si è sempre fatto in un certo modo e allora diciamo che comanda le consuetudini ecco ci sono delle criticità indubbiamente però lì si vede come intervenire ma mediamente insomma conoscere la normativa e applicarla correttamente è una cosa che serve alla scuola serve agli insegnanti serve alle persone che ci operano proprio perché garantisce anche quello che viene fatto che in effetti è la più forza anche rispetto ad esempio ai genitori che a volte contestano a volte ha ragione a volte ha torto però conosce la normativa vuol dire intanto evitare di mettersi dalla parte del torto ovviamente e quando si è dalla parte della ragione sapere anche come effettivamente intervenire ecco e secondo me questo è una cosa che sta aiutando moltissimo io vedo sono dieci anni che ho questo gruppo facebook normativa inclusione che ha superato i centomila iscritti ogni giorno mi arrivano decine e decine di domande e cui riusciamo a rispondere neppure a metà sostanzialmente ecco perché è tutto gestito chiaramente a livello di volontariato e lì emerge proprio una scuola in forti difficoltà da tanti punti di vista però che ha nella grande maggioranza di casi anche la forza e anche la voglia di reagire di funzionare certo che in un gruppo in cui facebook è più facile che arrivino le situazioni critiche cioè si va a lamentare qui i genitori che a scuola funziona tutto bene mica lo vanno a scrivere su facebook quello che lo dicono agli insegnanti quindi c'è questo concentrato di cose che non funzionano che fa chiaramente riflettere però l'idea è di una scuola che effettivamente sa reagire poi quella mia sensazione è che oggi le cose funzionano molto meglio rispetto rispetto proprio alla qualità dell'inclusione quello che abbiamo parlato oggi la corresponsabilità la condivisione dei curricolari eccetera perché la divisione prima era nettissima cioè adesso ci lamentiamo in certi casi che le cose non funzionano allora era la regola insomma quindi è questo che dobbiamo rendere conto certo bisogna andare avanti bisogna andare avanti e con tutti i problemi che ci sono io parlavo anche Dario chiaro che se un terzo degli insegnanti non è specializzato è difficile poi ma non perché non siano bravi perché non specializzato vuol dire precari istanzialmente quindi un turnover continuo che non consente di riuscire a stratificare a far diventare pratica abituale quello che prima invece è semplicemente così sono occasionali cioè queste cose di cui parlava Benedetta Sofia sono bellissime cose ma chiaramente ci vuole un team che vuole degli insegnanti convinti che questo sia utile e sono convinti non perché hanno letto un libro sono convinti perché l'hanno provato e hanno visto che funziona e questo è il passaggio più difficile da fare su questo chiaramente ci deve continuare a insistere perché altre strade non ce ne sono posso fare una domanda posso fare una domanda io a Gervasio perché Gervasio fa solo le domande a noi non si becca una domanda allora te ne faccio io una senti un po' ma tu che conosci bene il lavoro immenso che in questi dieci anni ha fatto il gruppo il gruppo di Flavio dei suoi amici su normativa inclusione su Facebook come rispondere tu che intralazzi molto nei palazzi romani ma come ti spieghi che il nostro ministero che dovrebbe fare lui una cosa del genere perché un sostegno sistematico alle scuole da questo punto di vista invece non lo fa no come risponderesti tu questa domanda allora mi cogli impreparato anche perché stare nei ministeri è sempre complicato anche perché i ministeri hanno uno funzionamento abbastanza digito tra direzioni e quant'altro la dinamicità forse non è proprio il massimo il massimo c'è la forza ecco di avere persone anche fuori dai ministeri e qui ecco forse entra anche l'autonomia scolastica in gioco visto che come diceva prima anche Flavio le scuole i gruppi hanno gli strumenti anche in mancanza di direttive nazionali per poter fare come hai detto tu Dario c'è quella quella dirigente che regala il libro a tutti i suoi ai suoi insegnanti quindi alcune volte non bisogna aspettare che le direttive vengono dall'altro ci sono gli strumenti le scuole possono fare ci vuole il coraggio certo ci vuole il coraggio da parte di dirigenti e di insegnanti di fare anche al di fuori di direttive ecco perché forse anche nel TEI e nell'inclusione spesso ci si trincera dietro le normative cercando di farsi autotutelarsi invece bisognerebbe avere il coraggio di andare anche un po' oltre grazie Gervasio grazie a voi per essere stati tutti qua oggi con noi